Sindaco, una domanda invece riguardo alla questione bilancio. Intanto le volevo chiedere se ci sono novità riguardo agli aiuti dal governo. Poi invece le volevo anche chiedere, lei aveva accennato alla questione del bilancio della città metropolitana ieri, quanto pesa quella situazione sulla situazione generale, totale? Sono due bilanci ovviamente a sé stanti. La città metropolitana ha un problema storico, quasi fisiologico, che per semplificare deriva dal fatto che le entrate sono venute a mancare, è nata con delle difficoltà. Poi delle entrate sono venute a mancare, per esempio la città metropolitana in termini di entrate si nutre molto dell'immatricolazione di nuove auto, immatricolazione bassa e quindi difficoltà nei ricavi. Stiamo lavorando con ANCI sia sulle città metropolitane che sul comune. Quest'anno il problema è più grosso sul comune per i motivi che abbiamo spiegato. Non ho novità purtroppo. Io credo che ne abbiamo ancora una ventina di giorni massimo per riuscire ad avere qualche conferma che al momento, ripeto, non abbiamo. Quindi per capirci quei 200 milioni circa di cui si parlava sono per la questione del comune, la città metropolitana è a parte? La città metropolitana è a parte, non è rilevantissimo il gap, ma è come tutti gli anni, proprio si ripropone sempre.